Perchè sono così diverso da loro? Il loro sole è più giovane e più luminoso di quello di Krypton. Le tue cellule hanno assorbito le sue radiazioni, che hanno rafforzato i tuoi muscoli, la tua pelle, i tuoi sensi. La gravità della Terra è più debole, ma la sua atmosfera è più energetica. Sei diventato più forte di quanto potessi immaginare. L'unico modo per sapere quanto è continuare a sperimentare i tuoi limiti. No! 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 Darai agli abitanti della Terra un ideale per cui battersi. Si affretteranno a seguirti. Vacilleranno. Cadranno. Ma col tempo... Si uniranno a te nella luce. Col tempo... Li aiuterai a compiere meraviglie. No! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.